Mentre cerchiamo in tutti i modi di provare l'esistenza degli extraterrestri, cercando nello spazio anche pianeti che assomigliano alla Terra per poter così affermare che esiste vita nello spazio, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Modena ha pubblicato su una prestigiosa rivista di geoscienze internazionale la scoperta dei cosiddetti intraterrestri, cioè sarebbero delle minuscole forme di vita dei microorganismi in grado di vivere e riprodursi nelle viscere più interne del nostro pianeta. Non sto parlando di quegli organismi estremofili, cioè praticamente che vivono in ambienti come miniere o grotte o all'interno addirittura dei gaser, quindi ad alte temperature, ma sto parlando di microorganismi che abiterebbero addirittura nel mantello terrestre, cioè in quella zona di sotto della crosta terrestre a profondità di anche 40 chilometri sotto i continenti. Gli studi sono stati fatti su delle rocce provenienti dall'oceano atlantico, le serpentiniti, dove sono state trovate tracce di questi microorganismi e della loro attività biologica. Infatti questi microorganismi si cibano, utilizzano per meglio dire dei minerali e delle sostanze chimiche per la loro attività metabolica. È un passo importante nello studio sull'origine della vita sul nostro pianeta. Un primo passo come quasi aver messo davvero il piede sulla luna. Ora, le serpentiniti, c'è da dire che sono state scoperte anche su Marte, dove c'è stata probabilmente anche l'acqua. E questo è un fatto molto interessante e attraente per chi cerca la vita extraterrestre, visto che sul pianeta rosso su Marte si trovano condizioni molto simili a quelle di queste rocce. Quindi, allora, noi gli extraterrestri ce li abbiamo sotto i piedi e non lo sappiamo, gli intraterrestri, questi microorganismi davvero eccezionali ed incredibili. Alla prossima!